Oh, 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 oh You won't believe what I tell you Now I can't talk, no one gets off Grazie a tutti. La casa del ragazzo di prima e lui ancora non lo sa. Il giorno speciale, quando ho sposato una italiana. Oggi è uno di quelli giorni, sto qui, mi sto divertendo con mio figlio. Acquafan. Il momento in cui mi sono divertita di più è stato Acquafan. Quando ho visto il mio miglior amico cadere nello scivolo dell'Acquafan. A Riccione l'anno scorso. Quando il Napoli è andato in Serie A. Quando l'Inter ha vinto la Champions League. Questa giornata. Eravamo nella piscinetta piccola e la mia fidanzata, la mia fidanzata era qua. E io l'abbracciavo tutta e la toccavo tutta e ci siamo baciati. Quando sono andato in uno scivolo in Brasile. Quando sono partita per i Caraibi. Il giorno mi sono buttata col paracadute. Quando ho scoperto come si poteva vincere sulla virginità. In questo momento mi sono golota più di tutti. Allora, sotto dei due all'ultimo secondo partita di basket. Tiro da metà campo, tabellone, canestro, canestro della vittoria. A-oh, a-oh, a-oh. No, I can't talk, no, I can't talk. A-oh, a-oh, a-oh. A-oh, a-oh. A-oh. Grazie a tutti.